Incorporare una società nel Regno Unito può essere vantaggioso, ma la scelta non è semplicissima. Le opzioni principali sono quelle di incorporare o una limited company, cioè una società a responsabilità limitata, oppure una limited liability partnership, che è un po' come le nostre società di persone, tassata per trasparenza. Ma lo vedremo alla fine del video. Qual è la scelta migliore per un imprenditore? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglielatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto ti invito a lasciare un like e a iscriverti al canale, così da rimanere sempre aggiornato con le nuove notifiche e con i nuovi video che postiamo costantemente all'interno del canale. Oggi parliamo di incorporare società all'interno del Regno Unito, che è un evergreen, obiettivamente perché? Perché il Regno Unito, insieme a poche altre giurisdizioni, è uno di quei paesi che ha mantenuto costante la semplicità di incorporazione e soprattutto di gestione delle società a distanza. E sì, perché in realtà sono molti di più le persone che incorporano società da non residenti, quindi tutti quegli imprenditori che non vivono, che non si trasferiscono all'interno del Regno Unito, rispetto invece chiaramente a quelli che sono costretti ad incorporare nel Regno Unito perché qui nascono, perché qui hanno business magari offline lato strada. Allora partiamo immediatamente, vediamo quali sono i pro e i contro, soprattutto delle limited company, che è la forma più comune. Il primo pro di incorporare una limited company, evidentemente lo dice la parola stessa, è la responsabilità. Le limited company sono società a responsabilità limitata, cioè gli asset dei soci non vengono intaccati da eventuali problematiche finanziarie o debitorie della società, che risponde soltanto con gli asset della società stessa. Il secondo vantaggio di incorporare una limited company è la possibilità di pianificare. Sembra scontato, ma aprire una società da dei margini di pianificazione fiscale, cosa che invece posizioni individuali, pensate alla nostra ditta individuale, al nostro forfettario, alla nostra partita IVA in ordinario, dà con meno possibilità. Mentre una limited company mi permette innanzitutto di intervenire con una cosiddetta deferral taxation a livello personale, cioè posso utilizzare le corporate income tax rate, per esempio il primo bracket di tassazione qui nel Regno Unito è del 19%, quello personale è del 20% e questo è già una prima piccolissima modalità di pianificazione. In più, chiaramente posso andare a lavorare sulla base imponibile, con la deducibilità di determinati costi, piuttosto che la possibilità di chiedere determinati crediti d'imposta. Il terzo vantaggio è quello della reputazione. Le limited company sono le società più utilizzate a livello mondiale, a livello internazionale, perché godono di una robustissima solidità reputazionale. Vi faccio un esempio, molti clienti europei potrebbero avere problemi a ricevere invoice dagli Stati Uniti, quando si interagisce con una LLC, per esempio, a prescindere dallo stato degli Stati Uniti in cui è incorporata, si potrebbero avere problemi anche di blacklist country, non sono viste con il massimo dell'apprezzamento. Mentre le limited company, questo vale non solo per le limited UK, ma anche per altre limited company, sono generalmente e reputazionalmente fortissime, non troverete o difficilmente troverete qualcuno che vi contesta, per esempio, una fattura erogata da una società incorporata all'interno del Regno Unito. Il quarto vantaggio di una limited company è quello della facilità di raccolta del capitale. Rispetto soprattutto anche alle limited, alle ability partnership e ad altre forme sociali, le limited permettono comunque con più facilità di vendere le proprie quote, e quindi fare entrare nel caso qualcuno all'interno della compagine sociale. Il quinto vantaggio è quello della continuità, questo vale per tutte le società di capitali. La continuità vuol dire che anche se i soci dovessero mancare o volessero vendere le quote della propria società per mille motivi, quella società continuerebbe ad esistere. Quindi non è una cosa tanto scontata, anche magari se volete fare una exit, perché c'è qualcuno che vuole acquisire la vostra società per continuare ad utilizzarla, le limited vi danno questo vantaggio. E passiamo invece ai contro, di quali sono le problematiche nell'incorporare una società all'interno del Regno Unito. La prima più scontata è sicuramente quella dei costi di gestione, incorporare e gestire una società in linea di massima dei costi più elevati rispetto a quelli che possono essere legati nella gestione di una partita IVA o di una posizione individuale. Il secondo contro è legato anche ad un accounting, cioè ad una contabilità più complessa. Il terzo è quello della pubblicità legale. Le società, le limited company UK, sono trasparenti, è impossibile nascondere, cioè il proprietario, chi detiene quella partecipazione in quella società, perché è tutto disclosed, si dice, è tutto in un pubblico registro di facile consultazione e di facile reperibilità da parte di chiunque. Io potrei googlare il vostro nome e in automatico saprei quante società avete incorporato all'interno del Regno Unito in un secondo e mezzo. In generale sicuramente il problema delle limited è che ci sono molte più regole da rispettare rispetto ad una posizione individuale e c'è anche da dire che in questi ultimi anni, ma questo è un fenomeno che il diritto societario ha visto nella maggior parte delle giurisdizioni in tutto il mondo, è quella della responsabilità degli amministratori che sta crescendo e devono fare quindi particolare gestione nell'evitare quella che è definita come mala gestio nell'amministrazione di una società. Questo per quanto riguarda le limited company, l'alternativa qui all'interno del Regno Unito invece sono le limited liability partnership, che sono una sorta di ibrido, ci danno sia una limitazione su quella che è la responsabilità dei soci, ma ci danno un vantaggio in più che è quello della tassazione per trasparenza, cioè le limited liability partnership a determinate condizioni non sono tassate immediatamente nel Regno Unito, ma in capo ai soci, per cui se i soci non si trovano all'interno del Regno Unito e se la società non svolge nessun business activity all'interno del Regno Unito, allora la tassazione va direttamente in capo ai soci, che non ricevendo però all'interno del Regno Unito non saranno tassati evidentemente gli UK, ma nel paese di propria residenza fiscale. Questa è una regola un po' scivolosa, qui bisogna fare particolarmente attenzione perché è un attimo a configurare quella che si chiama aggressive tax planning, cioè pianificazione fiscale aggressiva e quindi può creare delle problematiche in caso di accertamento. Dovete sapere infatti che le LLP o il limited liability partnership sono comunque tra le forme sociali più abusate all'interno di tecniche di pianificazione fiscale, quindi ogni volta che vado a incorporarne una, ovunque io sia, anche se sono a Dubai e questo è molto importante, devo fare particolarmente attenzione e passare sempre da un professionista. incorporare una società nel Regno Unito in definitiva può essere un'ottima mossa sia per la semplicità, per la possibilità di farlo da remoto, sia per la facilità di accesso ai conti correnti bancari, fintech e a determinate condizioni anche offline, quindi in una banca per e propria, ma è sempre importante consultare un professionista prima di farlo. Se sei interessato a incorporare per la tua attività una società all'interno del Regno Unito, il mio consiglio è quello di premontare una consulenza oggi da qui. Noi ci rivediamo dall'altra parte.